Hanno risposto all'appello quasi tutti i 41 sindaci del comprensorio Frentano convocati a Lanciano dal sindaco Mario Pupillo per scongiurare la chiusura del tribunale prevista per legge il 14 settembre 2021. L'incontro ha fornito anche l'occasione per fare il punto della situazione alla luce degli esiti dell'audizione romana all'intergruppo parlamentare sulla geografia giudiziaria. Una commissione attenta e preparata ha riferito agli amministratori locali Silvana Vassalli presidente dell'ordine degli avvocati di Lanciano che assieme ai colleghi di Avezzano, Vasso e Sulmona ha chiesto una nuova proroga per tutti e quattro i tribunali minori fino al 2024. All'incontro della casa di conversazione è intervenuto anche l'assessore regionale Nicola Campitelli il quale ha avanzato la proposta di sospensiva della cosiddetta legge Severino che prevede la chiusura di 31 tribunali minori in Italia e altrettante procure assieme a 667 uffici di giudici di pace. Per l'avvocato Vassalli entrambi i percorsi sono possibili, l'importante è salvare il tribunale di Lanciano quale presidio di sicurezza del territorio perché assieme al tribunale scomparirebbero anche la procura e la polizia giudiziaria. Le due cose non sono tra di loro incompatibili dal momento che la richiesta della sospensiva noi come avvocati dei fori che dovrebbero essere chiusi, dei tribunali che dovrebbero essere chiusi, l'avevamo anticipato al Presidente della Regione già a maggio-giugno del 2019. Non passò a livello parlamentare per motivi tecnici, non per motivi di contenuto. Adesso davanti alla Commissione interparlamentare abbiamo parlato di proroga, ma qualora ci fosse una sospensiva della esecutività della legge sarebbe ancora meglio in attesa della revisione dell'intera geografia giudiziaria a livello nazionale. Il problema non è tanto adesso proroga o sospensiva, è dare la possibilità ai quattro tribunali di lavorare effettivamente, quindi sbloccando le piante organiche degli amministrativi perché sappiamo benissimo che con il passare del tempo, con le piante organiche bloccate, con il personale che va in pensione o che magari desidera anche solo trasferirsi in altro luogo, non sarebbe sostituito dal nuovo personale.